...i loro lucrosi affari. Un progetto sulla sicurezza stradale rivolto ai bambini. L'iniziativa è della Polizia Municipale e del Campidoglio. È partita nel settimo municipio ma presto potrebbe essere stesa a tutta la città. Sentiamo Sonia Dottavio. Un corso di sicurezza stradale per diventare cittadini responsabili. Lo hanno messo in campo gli agenti del settimo gruppo della Polizia Municipale nelle scuole materne, elementari e medi del settimo municipio, zona Casilina, Torsapienza. Il primo passo è stato spiegare l'importanza delle regole. Poi si è passati alla conoscenza del linguaggio della strada. Semafori, attraversamenti pedonali, segnali stradali, il significato delle strisce bianche in terra, il corretto comportamento del ciclista. Tutte regole che in prospettiva servono a formare buoni automobilisti e cittadini responsabili. Le nostre finalità sono dublici. Uno, formare i ragazzi che ancora sono da formare, quindi piccoli, delle elementari, che saranno il futuro, ovviamente sulle strade di Roma come guidatori, ovviamente. Ma è soprattutto l'etica, un'etica urbana che è trasversale. Il corso ha coinvolto 1850 studenti di 84 classi in un percorso teorico che presto avrà applicazioni pratiche. Gli aspetti pratici sono fondamentali. Verrà creato un autodromo, Piazza Pino Pascali, nella conclusione di questo progetto. Ci sarà il 3 giugno con la consegna dei diplomi per i ragazzi e la possibilità di provare piccole macchinette su come utilizzarle in alcuni contesti e anche in contesti di pericolo. Oggi studenti, associazioni e agenti della municipale si sono incontrati per parlare anche di droga e di alcol, che vanno banditi per una guida sicura.